Ciao a tutti ragazzi, oggi recensiremo i Trenimos Minacce Striscianti e i Creaturex Pregatori Strictor. Iniziamo dai Trenimos Minacce Striscianti, questo è il serpente di mare che si illumina al buio. E questa è la rivista, i Shock Cipanzi, qua è inizio, poi qua va a vedere il Dottor Franti. L'Ondra, gli esperimenti di corpo umano, anche le priorità, i PICS, ASG della collezione, ecco qui ho messo la IPS, lo Spazio, gli Astronautics, i giochetti, i PUT, i Repping, in America e in Scead, e dite i commenti da che vi è un concorso di scimpanzi, vi incerete in paio un concorso di 26 pezzi da assemblare. Ora, i Creaturex Pregatori Strictor. Questo è l'aligatore, a buon odore. Allora, questo è il colibrino. Questa è tutta la collezione, di cui nei commenti se avete trovato gli speciali. E ditemi nei commenti se dei Nenimo si è semplicemente trovato quello dorato, quello che si honda con l'ho acquaccato o qualcuno che stia illumina al buio. Qui poi potete essere trovato quello che stia illumina al buio, quello che si honda con l'ho acquaccato, quello che fonda con l'ho acquaccato e quello che stia illumina col sole. Questa era lì. Qui parla alcune curiosità su alcuni. La storia è una spedizione molto medica Il vino è ferro terra e mare Qui tengo già Un giochetto Altri giochetti E le funzioni E ci vediamo Ditemi in commenti se vi piacciono i trannimals Se vi mi piace i striscianti O i creatorex predatori Strictor Ciao Oh, io non mi chiamo Massimo Cozzolino Mi chiamo Vincenzo Cozzolino Dimi ciao